Buonasera e benvenuti al telegiornale regionale per sordi. Arrestato dai Nass dei Carabinieri un medico a Firenze perché avrebbe predisposto false certificazioni di vaccinazioni anti-Covid mai avvenute e in alcuni casi avrebbe inoculato ad alcuni suoi pazienti, convinti di ricevere il vaccino Pfizer, sostanze diverse. Il medico è accusato di falso, peculato, corruzione, violenza privata, rifiuto di atti di ufficio ed è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal GIP di Firenze. L'inchiesta ha portato anche al sequestro di 38 Green Pass ritenuti falsi. In base a quanto accertato, il medico indagato avrebbe predisposto false attestazioni di avvenute vaccinazioni provvedendo all'inserimento nel sistema informatico della regione toscana dei relativi dati che, sebbene falsi, permettevano di ottenere il rilascio dei Green Pass. In altri casi, alcuni pazienti avrebbero ricevuto contro la loro volontà e a loro insaputa l'inoculazione di sostanze diverse dal vaccino nella convinzione di ricevere dosi di Pfizer. Le indagini sono risalite anche a 35 persone indagate, a vario titolo, dai NAS dei Carabinieri. Incidente sul lavoro in località Palazzolo, nel comune di Monte San Savino, in provincia di Arezzo, dove un operaio 48enne è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un masso che, staccatosi da un muro, è rotolato per un pendio e lo ha colpito al torace e all'addome. L'incidente si è verificato alle 10 e 10. Il 48enne è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Lescotte di Siena. Medici e professionisti sanitari ucraini potranno esercitare da oggi e fino al 4 marzo del 2023 la professione in Italia in via temporanea. Lo prevede il decreto Misure urgenti per l'Ucraina, pubblicato nella Gazzetta del 21 marzo. Dal 29 marzo sarà attivo anche a Firenze e nelle zone distretto Fiorentina Nord-Ovest, Sud-Est e Mugello il CUP 2.0, il nuovo sistema di prenotazione di visite, esami e indagini diagnostiche che amplia per gli utenti l'offerta delle strutture a disposizione, facilitando la scelta e semplificando il percorso di cura. Lo rende noto la ASL Toscana Centro. Già attivo a Prato, Pistoia ed Empoli, il nuovo sistema informatizzato e centralizzato di prenotazione chiede una fase di preparazione che riguarda anche la formazione del personale. Per consentire l'aggiornamento del software e il lavoro di verifica e controllo nella fase preparatoria, da giovedì 24 a lunedì 28 marzo, le prenotazioni CUP saranno quindi sospese e per 5 giorni non sarà possibile prenotare in tutte le postazioni della ASL Toscana Centro, compresi sportelli territoriali e postazioni telefoniche. Sono 6.778 i nuovi casi di coronavirus in Toscana registrati nelle ultime 24 ore, con un'età media di 39 anni circa. Si registrano 20 nuovi decessi, 10 uomini e 10 donne, con un'età media di 81,3 anni. I ricoverati sono 790, 21 in più rispetto a ieri, di cui 33 in terapia intensiva. Il numero è stabile. A Firenze la consigliera comunale della Lega, Michela Monaco, con disabilità motoria, denuncia che da una settimana l'ascensore che le consentiva di salire fino al Salone del Cinquecento e poi da lì arrivare nel Salone dei Duecento per partecipare al Consiglio Comunale è rotto. Sono costretta a un percorso assai più lungo che mi vede, laddove ci sono scalini, essere portata di peso sulla carrozzina dalla Polizia Municipale. È diventato una situazione insostenibile che voglio denunciare con forza. I ristori per le spese di prevenzione e sanificazione nelle RSA non verranno interrotti con la fine dell'emergenza Covid, ma saranno mantenuti fino al 30 giugno. È quanto stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell'assessore Spinelli. Controlli e sopralluoghi preventivi con cani antiveleno dei carabinieri forestali in più parti della provincia di Arezzo, dopo alcune segnalazioni di casi di bocconi avvelenati. Impiegate sei unità cinofile provenienti da tutta Italia che hanno operato con il supporto dei veterinari. L'operazione era finalizzata a contrastare il rilascio di bocconi avvelenati, una pratica illegale ancora diffusa, i cui motivi sono tradizionalmente legati al controllo delle specie cosiddette nocive, cioè i predatori, nelle zone dove saranno rilasciati animali allevati allo scopo di essere cacciati, ma anche per la difesa degli allevamenti bradi, per la competizione nella ricerca dei tartufi o anche in ambito urbano per liti tra i vicini. Sono utilizzati vari veleni. Le sofferenze a cui vanno incontro gli esemplari che ingeriscono le esche sono terribili e la morte arriva solo dopo una dolorosissima agonia. Musei aperti, cortei storici, fiere, mercati e musica sono le iniziative in programma per il Capodanno Fiorentino che si celebra il 25 marzo e che ricorda come fino al 1750 per Firenze l'anno civile iniziasse proprio il 25 marzo che è la festa dell'annunciazione. Vediamo il meteo per la giornata di domani Sereno o poco nuvoloso Venti deboli orientali di maestrale sulla costa nel pomeriggio Mari calmi o poco mossi Temperature Il lieve rialzo le minime con locali gelate mattutine nei fondovalli più interni della regione Massime in aumento anche consistente nelle zone interne È tutto, grazie per averci seguito Buonasera Grazie